E' arrivato il tanto temuto giorno X per la viabilità. Dalle 10 di questa mattina il traforo del Gran Sasso è aperto solo in una direzione, regolato da un semaforo che lascia il verde per circa 5 minuti e impone uno stop di 25 minuti con il rosso. Strada dei parchi che monitora costantemente il traffico potrebbe adattare i tempi di attesa ma la limitazione resterà in vigore per almeno 45 giorni. Questi giorni saranno necessari per svolgere sondaggi geognostici sul Gran Sasso e progettare gli interventi di sicurezza dell'acquifero sotto la direzione del commissario straordinario per Luigi Caputi. Tuttavia questi 45 giorni sono solo una fase preliminare. L'anno prossimo partiranno i lavori veri e propri che Caputi prevede dureranno due o tre anni con la stessa modalità di gestione del traffico introdotta oggi. I tecnici e le forze dell'ordine in risposta alle richieste di alcuni politici hanno chiarito che non è possibile introdurre il doppio senso di marcia perché mancherebbe la corsia d'emergenza, indispensabile per eventuali interventi di soccorso. Una modifica alla viabilità con conseguenze molto pesanti, particolarmente per i pendolari e le aziende della provincia di Teramo. Una condizione che si aggrava anche dai numerosi cantieri avviati da Annas sulla vecchia stata l'80 tra Crogna Leto e l'Aquila, nota come le capannelle dove 10 semafori in pochi chilometri rendono il traffico ancora più lento. Un tratto questo spesso usato come percorso alternativo nei periodi di chiusura del traforo che è ora interessato da un progetto di ristrutturazione messo in sicurezza da 30 milioni di euro. La politica locale sta cercando di trovare soluzioni ma la complessità della situazione rende difficili gli interventi in tempi rapidi. Questa condizione ricorda altre difficoltà nella viabilità della provincia di Teramo, dove i cantieri stradali e i semafori sono oramai un problema quotidiano per gli automobilisti. A ciò si aggiungono i disagi sulla 14 nel tratto tra Pescara e Roseto, colpito da lavori in corso che complicano anche le alternative per chi viaggia da Roma. L'effetto combinato di tutti questi cantieri sulle principali arterie stradali stanno creando un quadro di grande disagio per la provincia terramana che ora paga un prezzo molto alto.